Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Nel pomeriggio di domenica, un trentaenne in forte stato confusionale è entrato nel santuario delle Grazie di Brescia e, dopo essersi tolto i vestiti, ha iniziato a correre tra i banchi della chiesa urlando frasi sconnesse, in cui sosteneva di essere Dio e di essere lì per fare miracoli Passato lo scompiglio iniziale, alcuni fedeli sono riusciti ad allontanarlo, il giovane ha quindi cominciato a correre diretto verso il centro cittadino, davanti agli occhi incredoli delle persone che camminano lungo via Grazie a Corso Garibaldi Arrivato in Corso Zanardelli, ha iniziato nuovamente ad urlare, sono quindi sopraggiunti i carabinieri, che hanno dovuto inseguirlo fino a Via Trieste, dove è stato bloccato Caricato su un'ambulanza, è stato poi portato all'ospedale civile per il ricovero in psichiatria Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video